La mia terza Paralimpiade, sono comunque contenta di andarci, dopo questo ciclo paralimpico lunghissimo di cinque anni, mi gioco una gara, una medaglia importantissima, so che sono al livello di giocarmela, quindi spero di riuscire a fare tutto quello che sono capace di fare. I successi dell'Italia alle Olimpiadi possono essere uno stimolo per voi? I successi alle Olimpiadi ci hanno fatto emozionare tanto, noi speriamo di eguagliare alle Paralimpiadi, ma di raccontare anche storie bellissime, far emozionare ancora di più e dare valore aggiunto a quest'Italia. Quanto manca una figura come Alex Zanardi in queste Paralimpiadi? Questa Paralimpiade Alex Zanardi non mancherà perché ce lo porteremo nel cuore tutti, manca tantissimo perché è un esempio, una persona meravigliosa e sono sicura che tutti ne sentiranno l'assenza, ma sarà un po' in tutti noi. Grazie. Grazie. Ciao. 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 Grazie.